Si era sentito male nelle prime ore di lunedì 11 giugno un cinquantenne casalese residente in una mansarda in via Roma, nel cuore della città. Poiché le sue condizioni erano apparse critiche agli uomini al servizio di emergenza 118 e difficoltoso il trasporto al piano strada perché strette le scale. Il 118 ha richiesto il supporto e l'aiuto dei vigili del fuoco all'istaccamento di Casale Monferrato. I pompieri, in un'operazione di durata circa un'ora e mezza, sono riusciti tramite il cestello a calarlo a terra e a posizionarlo su un'ambulanza che poi l'ha portato immediatamente all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Da notare come durante la discesa a terra un vigile del fuoco ha continuato a fare, perché è strettamente necessario il massaggio cardiaco manualmente. Quindi un'ottima operazione ai vigili del fuoco di Casale Monferrato.